Grazie a tutti. La scelta di questo luogo non è assolutamente casuale. Oggi è fondamentale produrre quello che il mercato chiede e quindi diventa fondamentale per l'imprenditore non solo individuare quella che può essere la cultura che meglio si adatta alle condizioni pedoclimatiche della propria azienda, ma a sapere dove vendere il prodotto. Il contratto di filiera che Ferrero propone sicuramente dà delle possibilità all'imprenditore di avere delle garanzie perché per noi imprenditori oggi diventa importantissimo riuscire a fare reddito. Per la Confederazione Italiana di Agricoltori diventa altrettanto importante fare in modo che i nostri associati riescano ad avere reddito. E la cultura del nocciolo in Calabria, grazie a questo progetto che la Ferrero sta portando avanti ormai in tutta Italia, potrebbe essere una valida alternativa. Grazie a tutti.